Buongiorno ragazzi! Io sono Susanna di Arcos Academy, la scuola di italiano online. Pronti per un nuovo video insieme? Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Volete forse imparare l'italiano più velocemente? Allora iscrivetevi alla community esclusiva di Arcos Academy. Trovate il link sotto in descrizione. E ora si comincia! Oggi vediamo un argomento semplice, come presentarsi. Ecco un esempio. Ciao! Io mi chiamo Susanna. Tu come ti chiami? Vediamo il presente indicativo del verbo chiamarsi. Io mi chiamo, tu ti chiami, lui, lei si chiama, noi ci chiamiamo, voi vi chiamate, loro si chiamano. Scrivete il vostro nome sotto nei commenti utilizzando questo verbo. Vi è piaciuto questo video? Cliccate qui se ne volete vedere di altri oppure da questa parte per entrare nella community esclusiva di Arcos Academy. Vi aspetto! Ciao!